...debito greco e si fanno sentire anche i suoi cambi, e forse capisce nei confronti del dollaro e delle altre principali valutte. In questo momento il cambio è quella valuta americana, un dollaro di 37,35 centesimi. L'unico servizio per richiederlo chiama l'ottoggiuto. Ho confidenza con la tele, però anche qui, anche da voi... ...dele due autostrade, della vent...